Ciao a tutti e a tutti e bentornati in un nuovo video Oggi vi voglio registrare la mia summer routine per quanto riguarda il make up E vi dico subito che in questi giorni oppure settimana prossima Comunque prossimamente arriveranno anche un sacco di routine Quindi sia la morning sia la night routine Sempre per quanto riguarda l'estate Perché quest'anno l'estate mi sta uccidendo E siamo solo all'inizio Comunque a parte questo appunto volevo farvi vedere Un po' come mi trucco durante l'estate Ed è un trucco veramente semplice e super fresco Dovete sapere che io l'estate non uso fondotinta Cioè cerco e davvero lo faccio Di evitarlo il più possibile Magari lo uso proprio in eventi super rari In occasioni molto particolari La sera che magari fa un po' più freschetto Per il resto proprio zero Uso soltanto i correttori Quindi vi faccio vedere È un trucco sia semplice sia molto fresco Quindi vi piacerà sono sicura In più proverò anche i prodotti che vi ho fatto vedere In un video haul un po' di tempo fa Che sono i prodotti della Glossy Della linea per l'estate Che tengono a queste temperature un po' strane E quindi proviamo insieme Il primer l'ho già provato e mi piace molto Quindi già ve lo consiglio Comunque iniziamo col mio solito cerchiettino Perché altrimenti qua non andiamo da nessuna parte Tra l'altro quando trucco soltanto il viso Perchè gli occhi poi vedrete che andrò a applicare soltanto il mascara Io faccio prima la base Invece sapete che solitamente io faccio prima gli occhi E poi la base Però questa volta visto che non c'è il fondotinta Faccio il contrario Quindi prima vado ad applicare il primer Che vi dicevo prima Questo qui di Glossyp Eccolo qua Questo qui si chiama All Weather Smart Primer L'ho utilizzato già diverse volte Mi trovo da Dio Vi giuro da Dio Vedete è fatto in questo modo Rosa ed è molto cremoso Quindi col dito prelevo il prodotto E lo applico nelle zone Che voglio andare a settare per bene Consiglio sempre questa zona del naso E qui laterale Sono le zone un po' più porose Anche il mento Poi insomma ognuno lo metto un po' dove crede meglio Un'altra che l'avete applicato bene Andiamo con i correttori Io utilizzo sempre questi della linea nuova di Glossyp Che sono sempre a tenuta climatica Eccoli qua Utilizzo sia la colorazione 02 sia la 03 La 03 la stendo prima perché è più aranciata Quindi mi va a coprire l'occhiaia d'alone Vedete? Eccolo qua E poi sopra ci stendo lo 02 Dopodiché vado a sfumare il tutto con la Beauty Blender Una volta fatto questo Visto che non so se dalla telecamera si vede Ma rimane un pochino giallastro come sottotono Vado ad utilizzare un correttore leggermente chiaro Così da illuminare meglio la zona Io utilizzo semplicemente il Naked Skin della Urban Decay Nella colorazione Staker Che penso sia una delle più chiare L'applico in questi punti Quindi non proprio sopra l'occhiaia Ma leggermente sotto Arco del naso E pronte Guardate subito come cambia Cioè è fantastico Dopodiché setto tutto quanto con la cipria Vi do un piccolo consiglio Se non avete la pelle che si lucida facilmente Quindi ho messo a grassa E non avete bisogno di una cipria Non la utilizzate Ed è stata Cercate di utilizzare almeno possibile anche questa Perché tende come il fondotinta Costruirvi i pori Insomma maggiormente Non che il correttore non lo faccia Però comunque rimane un po' più leggero Però se l'andate anche a settare con la cipria Naturalmente diventa tutto un po' più pesante Però io la utilizzo perché ho una pelle mista E uso la solita Stay Matte della Rimmel Fatto ciò Prima passo alle sopracciglia Il viso poi lo andiamo a finire dopo Come consueto Potete utilizzare sia un gel per sopracciglia Io ad esempio di solito uso questo di Nabla Che è il Brow Pot In colorazione Venus Però d'estate mi trovo meglio con la matita Perché è più veloce Si stende meglio Invece per quanto riguarda questi in gel Ve riconsiglio di più Se magari andate al mare Perché solitamente hanno una texture waterproof Quindi resistente all'acqua Sicuramente vi può essere più utile La matita che uso io è la solita Eyebrows Capped di Kiko Colorazione 01 Una volta che lo disegnate Oltre che sfumarle con il pettinino in dotazione Se non lo avete Io vi consiglio sempre di utilizzare un pettinino Anche insomma che non sia in dotazione Un altro piccolo consiglio è con la sfugnetta Che avete prima sfumato il correttore Di andare qua nella parte avanti alle sopracciglia E di picchiettare un po' l'inizio In questo modo verrà un effetto molto più naturale Più sfumato A me piace molto Poi va sempre a gusto Fisso le sopracciglia con il mascara colorato di NYX Una volta fissate uso il mio piegaciglia Moltissime persone hanno paura di usare il piegaciglia Ma vi posso garantire che anche se le avete già lunghe di vostro Questo gli dà un tocco particolare Ve le rende proprio bellissime Nonostante le mie sapete che siano sfigatelle Ahimè Però io tendo sempre a usarlo L'unico accorgimento Naturalmente non chiudete l'occhio Mentre avete le ciglia intrappolate in questo aggetto Perché altrimenti vi posso assicurare che si staccano Provare per credere ma non provate Mi è capitato una volta E le ciglia poi vabbè sono ricresciute Però ci ho voluto un po' Dopodiché utilizzo la mascara bianco Che è una base per il mascara di Kiko Anche questo Building Base Mascara Questo qua le volumizza anche un po' Una volta applicato io lo lascio asciugare Circa un minuto, due minuti Mentre faccio qualcosa Se mai Dopodiché applico il mascara Ultimamente sto usando questo qui Che è il Miss Baby Roll di L'Oreal Mi sta piacendo da morire Non me lo sarei mai aspettato Ok Una volta messo il mascara nella parte superiore Non vi preoccupate se poi vi sporcate La palpe beh dopo la andiamo a togliere Col coton fioc Adesso prendo la mia matita Che in realtà non vedete da un sacco di tempo Ma per chi è un seguace assiduo La riconoscerò subito La mia matita Verde, color rottaneo Anche questa Kiko Long lasting stick eyeshadow Eccola qui La vado a mettere all'interno Qui Per chi ha gli occhi castani come i miei Questo colore in particolare O con quei verdi Questi colori qua Tendono a buttare fuori molto il verde Che c'è all'interno del vostro occhio Quindi lo va a risaltare ancora di più Fatto questo Poi prendo un altro mascara Che è il Better Than Sex Il solito Questo qui di Too Faced E invece Visto che è quasi finito Purtroppo Lo vado a mettere qua sotto Tranquilla che non mi sporca Questo qui è un passaggio abbastanza facoltativo Perché so Che non tutte apprezzano il mascara sotto Io se non lo metto Diciamo che Il mio occhio Sembra un po' Infensato Quindi occhi conclusi Ma dopo c'è un tocco speciale E adesso passiamo al viso Solitamente mi vedete sempre fare un contouring Un po' abbastanza accentuato E poi solitamente applico il blush e l'illuminante Invece D'estate preferisco Sì usare la terra Ma usarla in maniera Molto Molto più lieve E invece preferisco usare di più il blush Anche perché Sapete che Io non sono tipo da spiaggio Non mi piace andare al mare E non mi piace essere abbronzata Soprattutto Quindi il blush mi aiuta a sembrare Rispetto agli altri Diciamo viva Come terra Utilizzo Hypno Questa qua di Mulac Ne prendo poca 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 E vado a scolpire In maniera Vedete Proprio giusto per accentuare Lo zigomo Niente di più Anche perché altrimenti Non avendo messo il fondotinta Mi si va A stendere a macchia Quindi proprio Una cosa leggera Leggera Fatto questo Poi passa al blush Utilizzo Bambi Sempre di Mulac Ve lo faccio vedere Qui nella palettina E lo mischio a un po' Di questo qui Che è lo 02 Belle Questo è il mio combo Di blush preferito Guardate come da subito Un'idea di pelle sana Radiosa Luminosa Mi sfumo anche leggermente Verso la terra Ed ora Tocco Imperdibile Per quanto riguarda L'estate Cioè se non mettete L'illuminante d'estate Non mi ha senso nulla Io utilizzo anche qui Solito illuminante Di Mulac Si chiama 06 Eros E lo mischio Con quest'altro illuminante Che gli dà un tocco Un po' più caldo Che è lo 07 Apollo Che vedete Che ha un sottotono rosato Lo passo anche leggermente Sotto l'arcata sopraccigliare Poi anche un po' qui Ecco qui il tocco speciale Che vi dicevo prima Che dà proprio risalto Agli occhi Poi punta del naso Arco Senza unire le due parti E arco di cupido Leggermente sporcato Ci sta sempre Ora Ultimo tocco Prodotto labbra Solitamente tendo sempre A utilizzare dei colori Abbastanza neutri O accesi Cioè O passo dal neutro All'acceso O altrimenti Non uso altro Per quanto riguarda i colori accesi Utilizzo molto il fucsia Il rosso Il viola O quelli un po' attendenti A lilla Oggi vado a mettere La solita matita Questa qui Marmotta Di Neve Cosmetics Faccio soltanto il contorno Dopo aver fatto il contorno Riempio leggermente Gli angoli esterni E anche qui Tocco super stiloso Ve lo posso garantire A non tutti piace L'effetto labbra lucide Ma è un trend Che sta tornando tantissimo Io personalmente lo adoro Perché tende a rendere Le labbra anche molto Più carnose Visibilmente E io utilizzo Questo gloss Sempre di Kiko Guardate che colore bellissimo È l'opero 17 Della linea 3D Hydra Lip Gloss Cioè guardate quanto si vede L'effetto filler Fanno davvero Una figura Pazzesca Io le adoro Quindi fatto questo Il nostro look per l'estate È completato Torniamoci il cerchietto Di Halloween Che teoricamente Non c'entra nulla Vi rimetto Gli occhialini E vi faccio vedere Come vedete Un look davvero semplice Da fare Veloce E soprattutto fresco Cioè vi posso assicurare Che sulla pelle Non si sente Ma allo stesso tempo Guardate come è glowy Come vi rende subito Più belle Più sveglie Più energiche Quindi spero questo make up Vi sia piaciuto Io vi mando un bacione immenso E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti